Oggi in versione Palpatine per sottolineare il vostro lato oscuro. Vi siete triggerati, eh? Avete puntato il dito contro quella doppia splash page finale che vi ha ottenebrato il cervello. State pensando che tutto quello che avete letto finora e soprattutto questo capitolo 1101 di One Piece faccia veramente schifo, eh? Avete ragione. Vi capisco. Io vi capisco. La cosa vi ha lasciato perplessi. Ci ha lasciato perplessi. Allora qui, in questo nostro pomeriggio, questo nostro sabato dedicato all'approfondimento di One Piece, orizzontalizziamo tutto quello che è successo. Cerchiamo un attimo di venirci a capo. E anzi, facciamo così. Mentre parte la sigla, voi adesso, ancora prima di ascoltare me, qui sotto nei commenti, mi scrivete come vedete tutta questa faccenda. E nel farlo lasciate anche un bel like e vi iscrivete al canale, se ancora non l'avete fatto, azionando anche la campanella, così non vi perdete nessun video futuro. Siamo pronti? Sigla! Ora, prima di analizzare il nuovo capitolo di One Piece, voglio fare un attimo mente locale sul fatto che il 1101 è il penultimo del 2023. Questo significa che la settimana prossima c'è pausa, mannaggia la morte. Poi nella settimana della vigilia di Natale c'è il capitolo 1102, che è l'ultimo del 2023, dopodiché il capitolo 1103 potrebbe uscire prima della fine dell'anno. Ora, proprio perché noi ormai siamo a pochi giorni dal Natale, perché non farci un bel regalo? E dato che gli amici di NordVPN ci hanno accompagnato lungo tutto questo 2023, il Natale potrebbe essere l'occasione perfetta, perfetta, per auto-regalarci un nuovo anno sicuro, grazie a quello che, lo sappiamo, è il miglior VPN dell'universo. Pensateci, pure Babbo Natale usa NordVPN. Cioè, io ci ho pensato adesso, solo così si spiega per quale motivo lì riesce a viaggiare in tutta sicurezza, svicolando tutte le minacce del mondo. Quindi facciamolo pure noi, per stare al sicuro, durante questo periodo natalizio, che è uno di quelli dove, insomma, le minacce informatiche escono fuori dalle pareti, affidiamoci a NordVPN. Cioè, che vogliamo fare? Vogliamo essere da meno di Babbo Natale? Non mi pare il caso. Quindi utilizziamo il codice dedicato alla nostra community per avere tutti i vantaggi esclusivi e quindi l'opportunità di farci questo bel regalo di Natale. Usiamo NordVPN, il VPN totale tombale, che ci tiene al sicuro durante Natale. Mentre mandiamo il nostro sempiterno saluto agli amici di NordVPN, veri amici ormai di questo 2023, e prima di approfondire il discorso che insomma tutti quanti vogliono cercare di estrapolare per capirci veramente qualcosa, questo capitolo 1100 però ha riservato anche molte cose, molti aspetti veramente interessanti a partire di nuovo da Dragon come personaggio. Mai, mai, scorderai l'attimo la terra che tremò. Si era visto Dragon, diciamo così, apparire in maniera prepotente in così tanti capitoli di One Piece. Finalmente cominciamo a vederlo. Questa è la maniera in cui Oda pian piano sta togliendo il velo che comunque ha coperto questo personaggio misterioso. E è molto bello secondo me, cioè molto puntuale il fatto che Dragon ci tenga a ribadire che dal suo punto di vista i figli non sono nient'altro che gigantesco punto debole dei genitori. Perché fino a questo punto, fino a questo momento, quello che a me, credo forse anche a tutti voi come elettori, è sempre parso lui come personaggio, un uomo, Dragon, votato interamente alla causa della rivoluzione. Cioè, quello che è sempre emerso è un personaggio molto freddo, molto distaccato, che quasi sembra essersi strappato via al cuore, dal petto, per dare interamente se stesso al mondo della rivoluzione. Forse capiamo che lo abbia fatto perché internamente, interioramente voleva creare un futuro migliore non solo per se stesso ma per la generazione futura, quindi anche per suo figlio in questo caso. È sintomato, è molto interessante che Dragon dica che i figli sono i punti deboli dei genitori e che sottolinei Akuma guarda che se continui a parlare in questo modo perché insomma lo ha sgamato tu mi dai una coltellata in petto mi uccidi. Mentre lo leggevo ieri sera su Twitch o meglio per voi insomma oggi per me è venerdì voi vedrete questo video sabato quindi due giorni fa mentre leggevo mi è venuto davanti agli occhi una scena di Gomorra sapete sono un grande appassionato nella quarta stagione dove Gennaro Savastano nei confronti di questa broker che lo ha fregato ma che prima di partire va a trovare sua madre Jenny dice che tutti quanti noi abbiamo sempre qualcuno di importante per cui saremmo capaci di fare pazzie o addirittura fare stronzate e quindi ne vede Dragon che dice quelle cose la sembra quasi che lui ecco per non cedere tra virgolette al ricatto emotivo di fare una pazzia o una stronzata magari per proteggere il figlio fa quasi finta che non esista e è molto interessante cioè io lo trovo finalmente molto interessante soprattutto poi se pensiamo cioè facciamo un salto all'indietro a Marineford i figli sono al punto debole dei genitori cosa succede quando Garp si ritrova davanti Rufy succede che lui si slancia con tutta la sua potenza e poi davanti agli occhi Garp vede Rufy bambino Rufy che piange lui che cerca di educare Rufy e si fa colpire perché? perché i figli sono i punti deboli dei genitori del nonno in questi casi e Sengoku lo dice proprio alla fine Garp anche tu sei un genitore Garp si incazza chiede a Sengoku tienimi 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 se no scendo giù e uccido Akainu quando Akainu colpisce e uccide Ace tutto comincia a tornare e allora quello che dicevamo anche qualche tempo fa qualche settimana fa sembra quasi che Oda voglia insomma presentarci un dragon che non abbiamo ancora davvero mai conosciuto e mai visto tramite diciamo così lo sguardo di Orso Bartolomeu in questa settimana abbiamo visto personaggio gigantesco titanico eticamente e moralmente forse uno dei personaggi più incredibili di tutto One Piece e un personaggio così alto moralmente parlando che stravede per uno come dragon per proprio transitiva può essere mai che dragon è un figlio di buona donna assolutamente no è proprio tuo figlio dragon diceva Kuma e allora io vedo io veramente ecco adesso brucio dalla voglia di scoprire una volta per tutte dragon perché così come Oda insomma ci ha rivelato questo personaggio di Kuma e ce l'ha fatto davvero vedere pieno di sorprese chissà quante sorprese ci insomma ci sta tenendo da scoste il nostro simpatico capo dei rivoluzionari e da un capo dei rivoluzionari all'altro da un capo all'altro che si è terribile però vabbè la scorsa settimana in un video dove io teoricamente non avevo niente da dire lo intitolavo quanto ne sa Kuma di Luffy Nika e Joy Boy questa settimana in cui insomma Oda ci ha detto sì Kuma sa perfettamente che Luffy è Nika perché pur non conoscendo le sembianze di Nika Kuma sa benissimo che le sue proprietà sono quelle della gomma quindi lui combatte in maniera libera felice come una farfalla dicevo una vecchia pubblicità ma soprattutto combatte con il potere di allungarsi della gomma quindi va lì va a fusha perché ha capito che lì c'è il figlio del suo grande diciamo così del suo grande amico e vede Nika allenarsi nella maniera più libera felice e spontanea e quindi in retrospettiva adesso capiamo tutto o quasi cioè capiamo che tutto quello che Orso Bartolomeu ha fatto nei confronti dei Mugiwara è stato ecco non solo testare per esempio lì a Thriller Bark la caparbietà dei Mugiwara ma anche salvare la vita a Rufy e ai suoi perché quella è la ciurma di Nika quella è la ciurma dell'uomo che porterà una nuova alba nel mondo e quindi è bello questo stalkeraggio di Kuma nei confronti di Rufy lì a fusha così come io di nuovo trovo estremamente meraviglioso il fatto che in retrospettiva le Ciro Sensei dia un maggior spessore a il personaggio di Orso Bartolomeu che di nuovo ha protetto a modo suo anche quando ha dovuto abbandonare la sua umanità la ciurma diciamo così di questa divinità che la sua razza evidentemente ha sempre aspettato e ha sempre venerato però senza tenere conto del fatto che il capitolo in sé è ancora molto bello e molto emotivo tutta la faccenda delle lettere alfa sora cugina di Califa che è veramente un personaggio terrificante affrontiamo insieme un attimo l'elefante nella stanza ve l'avevo promesso e quindi è giusto affrontarlo perché ieri per me in blind due giorni fa per voi che state vedendo questo video sabato blind che come al solito trovate su twitch abbiamo cercato un attimo di capirci insieme la faccenda cioè come ha fatto bonnie a trasformarsi in nika si è trasformata veramente in nika e quindi era di gomma era solamente grossa capiamo capiamo ora uno deve far mente locale con one piece ormai lo sappiamo si gioca su quelli che sono i singoli elementi oda gioca con il lettore facendo parlare i suoi protagonisti mettendogli in bocca le volte delle frasi che prese così a se stante sembrano quasi non voler significa niente e invece poi quando di nuovo ecco le leggi col senno di poi assumono ben altri significati tutt'altri significati e allora noi in realtà abbiamo già visto la faccenda per esempio dei futuri distorti anche all'interno delle sbs di one piece dove oda ti faceva vedere come sarebbero stati per esempio i mugiwara tra 20 40 60 anni e poi come sarebbero potuti essere in un futuro alternativo quindi vedi rufi che mano mano è sempre più distrutto zoro che è sempre più poveraccio usop che è sempre più una figura ripilante tanto da riproporre questa cosa anche all'interno del suo fumetto perché se vi ricordate quando bonnie salva gimbe e rufi all'inizio di e ged li trasforma fa diventare gimbe bambino e fa diventare rufi un vecchio che però non è il vecchio della timeline di rufi tant'è vero che se vi ricordate le persone su quello fecero la teoria riguardante il fatto che se noi vediamo un rufi vecchio che però appartiene a un futuro totalmente diverso dalla timeline attuale magari rufi alla vecchiaia non ci arriva perché è morto non so se ve le ricordate queste cose oppure se vi andate a rivedere il capitolo 1072 di one piece cioè bonnie che diventa gigantesca utilizzando questa tecnica del futuro distorcente e allora neanche a farla apposta se uno si va a riprendere il volume 61 di one piece e si va a rileggere la spiegazione e rifacciamo un attimo insieme dei frutti del diavolo che ci dà Vegapunk Vegapunk dice sostanzialmente questo i frutti del diavolo sono la possibilità di evoluzione umana che qualcuno ha desiderato quindi se potessi diventare così se potessi diventare cosa quello che dicevamo anche le altre volte no quello che dicevamo sempre la potenza creatrice dei frutti del diavolo fa in modo che il potere si materializzi in questo caso una bambina ha desiderato di diventare grande e ha ottenuto il frutto di poter diventare grande e continua Vegapunk che dice i poteri rappresentano i più variegati futuri dell'umanità allora tu fondi le cose no il fumetto cosa ti dice ti dice che Bonnie ha desiderato di poter diventare grande ha ottenuto il potere di un frutto che è in grado di modificare a piacimento l'età sua di Bonnie ma anche di chi le sta attorno perché lei così combatte fa fare le esperienze di premorte alla gente trasforma chi le sta attorno in bambini oppure in vecchi anche di un futuro diciamo così di un mondo parallelo e quindi cosa fa obiettivamente modella il tempo questo frutto del diavolo di Bonnie e può distorcerlo al punto tale da raggiungere un tempo in cui le possibilità di evoluzione umana sono però quelle rappresentate addirittura dai desideri del frutto del diavolo questa è la spiegazione detta proprio in maniera molto molto basica cioè Oda poi magari fra due settimane ti può dire tranquillamente che quelle che abbiamo visto è solamente lei che è diventata gigante come già per appunto ti ha fatto vedere nel capitolo 1072 oppure in questo capitolo 1101 quando sembra un wrestler quando lei combatte con Gyo Gyo e questa è la storia una grande perplessità che ho anche io e non ho paura a dirlo ma se lei quindi avendo le giuste informazioni può immaginare un futuro distorto dove l'apice del futuro dell'evoluzione umana sono gli uomini che diventano lava o gli uomini che diventano giaguaro anche lei si può trasformare in lava o in giaguaro io questo non lo so potrebbe essere la paura di tutti questo cioè il problema non è che lei può diventare come Nika e adesso ci arriviamo ma è che lei possa in realtà avere accesso ai poteri di tutti io su questo alzo le mani non lo so così come non metto minimamente bocca sul fatto che questa cosa può essere vi piaciuta o può non essere vi piaciuta questo sta solamente a voi però io come al solito e lo so che ci ho messo tempo ma io ormai ho imparato e ho deciso che i punti nodali dei miei video devono essere come i libri di Umberto Eco arrivano alla fine quindi i primi minuti di BlaBlaBlegio servono per scremare quelli a cui in realtà di One Piece non gliene frega nulla e solo alla fine c'è la ciccia vera perché di tutta questa faccenda il punto fondamentale il punto nodale che secondo me dovremmo tutti quanti esplorare è proprio un altro completamente un altro cioè a me sembra alla luce proprio di questo capitolo 1101 che il fumetto cioè One Piece stia andando nella direzione per cui l'elemento imprescindibile che sta alla base della filosofia non solo del fumetto ma anche del mondo ideato da Ichiroda è proprio il sentimento di libertà nella sua più totale espressione cosa voglio dire che Bonnie è una bambina noi non dobbiamo dimenticarci che lei nel capitolo 1101 ha 10 anni adesso nel presente ne ha 12 quindi una ragazzina ha dalla sua parte quella che è l'arma più portentosa del mondo per un bambino e per un ragazzino ovvero la fantasia il fumetto ti dice che la fantasia è talmente potente da riuscire a concretizzare il tuo desiderio e la sua fantasia ha materializzato il desiderio di diventare grande e per mezzo della sua fantasia lei ha desiderato di essere per un momento come Nika questo è il punto c'è riuscito ci è riuscita lei in questo momento è diventata come Nika è Nika quando Bonnie picchia Alfa lei è Nika e a noi in realtà può importare oppure non importare però in realtà secondo me non dovrebbe neanche fregarcene se lei in quel momento è fatta di gomma oppure no perché lei in quel momento è Nika non per come è dal punto di vista fisico ma è Nika per tutto ciò che Nika in realtà rappresenta cioè con quel pugno che lei sferra ad Alfa Bonnie si libera definitivamente dalle catene che l'hanno intrappolata per una vita intera ed è quello il momento che le permette di partire via essere libera essere libera di andare per il mare ed essere libera di andare alla ricerca di suo padre e questa è la cosa fondamentale cioè lei è libera di immaginarsi di combattere come Rufy e nel farlo diventa libera questo è il punto fondamentale di questo capitolo e da qui perché questo è un discorso che dobbiamo fare e rifare fino alla morte riparte il loop Nika è l'emblema della libertà porta la gioia e porta la risata se sei come Nika sei libero perché se sei come lui puoi fare tutto quello che vuoi tu quindi provate un attimo a chiudere gli occhi e provate a immaginarvi un popolo intero che raggiunge la consapevolezza di voler essere come Nika libero come Nika felice come Nika che ride come un deficiente come Nika e questo popolo sarebbe il più avanzato il più ricco il più felice e il più libero del mondo perché la loro energia materiale e spirituale sarebbe la gioia e la felicità stiamo sempre là io sono pazzo io lo so che sono pazzo me ne rendo conti sono pazzo sono pazzo per questo fumetto quando faccio questi discorsi sono pazzo e però poi questa roba volente o nolente nella mia follia questa roba ritorna facendo del sorriso la libertà il sorriso come espressione della libertà cioè ne abbiamo visto in questo fumetto gente che per essere libera e quindi per dare la libertà anche agli altri muore felice perché magari il tuo destino può anche essere segnato e tu magari non sei in controllo del tuo destino ma sei tu che decidi quale libertà esercitare nel momento in cui te ne stai andando e quindi esercitarla nella maniera in cui credi cioè noi abbiamo visto che in One Piece ci sono delle persone che danno degli esempi di alta moralità agli altri dove in un mondo terrorizzato in un mondo ignorante in un mondo super schiavizzato e questi sono gli esempi che fanno paura al potere costituito Oden che si fa uccidere e tutti comunque hanno paura che possano fare quello che ha fatto lui oppure Ilk che si fa ammazzare e comunque Wapol e gli altri hanno paura che tutti gli altri cittadini possano fare come Ilk eccetera 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 perché se tutti seguono gli esempi di personaggi come Ilk personaggi come Oden personaggi come Nolan come Calgarap è finita per il potere costituito game over quindi il governo mondiale ha paura non tanto della tecnologia del regno antico quanto dei suoi ideali immaginate se l'ideale fosse questo essere come Nika cioè se tutti sono come Nika ridono come deficienti come Nika sono liberi come lui non c'è oscurantismo che tenga e poi in questo si aggancia quest'altro discorso che sembra collaterale ma non lo è abbiamo scoperto che c'è un gruppo di individui che hanno quella famigerata di che in questo momento sono come degli involucri vuoti perché non hanno la più pallida idea di appartenere ecco a questo determinato clan a cui tutti in realtà possono appartenere se sanno qual è il significato di quella lettera o della filosofia che sottende all'appartenenza di questo gruppo se lo sapessero sarebbe drammatico perché la consapevolezza che ti dà potere come abbiamo già detto e noi abbiamo visto che l'unico individuo che sapeva di appartenere ecco a questo gruppo di persone e aveva la consapevolezza di tutto ciò che significava rappresentare quel gruppo di persone ovvero Gold Roger liberamente ha scelto ecco ancora una volta di morire dando l'esempio infiammando il mondo tanto con la sua libertà quanto con la sua risata perché lui ha scoperto tutto quindi lui sapeva chi era Nika anche lui alla fine è diventato come Nika ritorniamo sempre là una risata libera li seppellirà tutti e ci seppellirà tutti la risata che mi faccio io ogni qualvolta leggo questi capitoli e la gente si triggera per un fumetto perché questo è capiamo capiamo domande su domande su domande su domande per il momento risposta è zero io una sua coerenza ce la vedo poi che Oda possa sbrodolare è umano come tutti anch'io ho le mie perplessità però alla luce di tutto questo discorso svalvolante secondo me le cose più o meno funzionano e tornano lascio a voi la parola due settimane in cui vi scannerete due settimane in cui dubito che insomma le persone siano arrivate alla fine di questi 23 lunghissimi minuti ma se l'avete fatto fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto l'hashtag sii come nica è a vostra disposizione e lo potete utilizzare come volete e come credete un bacio non vi pigliate coller e gentilmente non vi ammazzate sotto nei commenti ma tanto ma i video su One Piece ma ormai chi cazzo li vede non li vede più nessuno la gente viene su questi video scrive quello che pensa se lo sono visti però io vi voglio bene lo stesso anche voi quei pochi che siete arrivati alla fine di questo video siate come Bonny siate come Nica liberi e felici pensateci non so per la parte per la parte è stata come Nica siate come Nica la parte gioco Grazie.